Ciao a tutti da Saludatore, eccomi con Ciancarini Claudio, grande Claudio Ciancarini e abbiamo una sorpresa, qui abbiamo la nuova maglia della Lupa Giallorossa, ecco e allora salutiamo l'associazione Lupa Giallorossa, sempre Daglie Lupa Giallorossa, trovate tutto sul sito, su Facebook, su Alessandro Conforte, sui mio, dove vuoi? Ecco qua, ecco, un saluto a tutti quanti, ciao e Forza Roma, ecco la manina, eccola qua, ciao!